Lord Beers e Whis capiscono che Black Goku è Zamasu. Nell'episodio in cui Lord Beers e Whis capiscono che Black Goku è Zamasu, avviene perché nel momento in cui Zamasu ha liberato la sua aura per combattere contro Goku, hanno percepito un'aura molto simile a quella di Black Goku, il che li ha fatto capire che Black Goku è realtà Zamasu. A questo punto insieme a Goku decidono di tornare nel settimo universo.